Luke 43 16 Aspettavo e ringrazio tutti, ma proprio tutti, gli iscritti e anche quelli che mi seguono, per cui vi prego continuate a seguirmi e spero che gli iscritti saliranno, comunque ho già raggiunto uno dei miei obiettivi principali Allora, questo è uno speciale, sono sincero, non sapevo cosa fare, ho anche mal di testa oggi, per cui ho perso tempo a fare questa cosa, spero che vi piaccia Allora, ripeto, per festeggiare i 50 iscritti, io farei una cosa del genere Quegli erano i 50 iscritti che se ne vanno e spero che, come indica la sera la freccia, spero di salire sempre di più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti